buongiorno a tutti da escursione a gogo oggi ci siamo al monte gemma 1457 territorio dei monti le pini sentiero non ananello di circa 30 e ritorno 11 km si sale per circa 380 medi di dislivello con la vetta 1457 siamo belli carichi c'è tanta gente che dire si sale buongiorno a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.